Il 13 novembre 1974, Karen Silkwood, impiegata in un impianto nucleare nell'Oklahoma, parte per incontrarsi con un reporter del New York Times. Non è mai arrivata. Nome? Karen Silkwood. Drew Stevens. Dolly Pelliker. È come se in te ci fossero due persone. Che cosa si sa degli effetti delle radiazioni di plutonio? Non avete mai visto uno che si è bruciato perché ha preso troppo sole? Beh, è la stessa cosa. Il nostro settore è stato contaminato. Dicono che sei stata tu. Non mi va che la gente parli di me in questo modo. Ma la compagnia deve incolpare qualcuno, se no la colpa è loro. Quelli cercano di farti fuori. Vorrei avere io cura di te. Sto facendo una cosa giusta. Lo so che la cosa è giusta, ma tu sei la persona sbagliata per farlo. Stavo pensando, ci enteresti tutto per venire via con me? Non posso mollare adesso. Che ci fai qui? No, basta! Basta! Ho tanta paura. Voglio non ammazzarmi. No! 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 Grazie a tutti